Mannaggia me, avessi fatto un conto deposito lo scorso anno, oggi non perderai il 20%. Quanti di voi hanno pensato questa cosa e rimpiangono i cari vecchi conti deposito che oggi con i tassi in crescita sono tornati a essere interessanti? Ma davvero conviene investire in conti deposito? Te lo spiego subito. Ben trovati, io sono Giacomo e sono qua con questo podcast in versione audio sulle principali piattaforme e video ogni venerdì per parlarti di investimenti e darti tutti quei consigli, quegli aggiornamenti, quegli spunti operativi per aumentare i rendimenti dei tuoi investimenti. Prima di parlare di conti deposito, che sono l'argomento del podcast Segreti Bancari Live di questa settimana, ti ricordo di iscriverti al mio canale per aumentare il numero di follower e quindi contribuire allo sviluppo del progetto e soprattutto per te per ricevere tutti gli aggiornamenti che via via andrò a pubblicare. Se invece vai sul sito segretibancari.com potrai trovare un sacco di risorse gratuiti, importanti, potrai leggere gli articoli che pubblichiamo tre volte alla settimana, iscriverti gratis ad Investo e così via. Perché i conti deposito, che sono l'argomento principe di questa settimana, sono tornati alla ribalta? Sostanzialmente per colpa di un effetto che si chiama l'effetto recency, ovvero l'effetto recenza. Noi come persone umane decidiamo di investire sulla base di quello che è successo negli ultimi mesi e quindi la nostra paura o la nostra abilità sono fortemente condizionate da quello che è stato il recente passato. Ora, visto che da inizio anno i mercati perdono tra il 15 e anche il 20, 25 o 30 per cento, la nostra testolina comincia a pensare che questo ribasso non avrà mai fine. E quindi non solo viene il rimpianto di non avere sottoscritto, per esempio, un conto deposito un anno fa, ma viene proprio voglia di farlo oggi, per salvare il salvabile. Beh, lasciate che vi dico una cosa, molto generale ma efficace. Quando vi viene questo tipo di pensiero, normalmente il ribasso è quasi alla fine. Perché il fatto di comprare i massimi, vendere i minimi, che fa sorridere, è un qualche cosa che è veramente tangibile. Molte persone lo fanno non perché sono stupide, ma perché sono stremate dagli eventi. Quando il mercato sale, uno è stremato dal fatto che non guadagna e quindi si sente un po' pollo a non partecipare alla festa. Quando il mercato scende, le persone cominciano a pensare che il mercato andrà sempre peggio. Quindi, se non c'è una razionalità in questo, sicuramente c'è un'emotività. E complice anche il fatto che i tassi sono saliti, di nuovo torna il mercato, è inondato di conti deposito. Torno le sirene dei conti deposito. Ma quali sono i vantaggi di scegliere un conto deposito? Beh, direi anzitutto il valore nominale, certo. Nel senso che quello che voi versate sul conto deposito resta lì. E questo è un anestetico molto importante, perché nei momenti di turbolenza quello che ci mette in affanno è vedere il nostro capitale salire o scendere. Beh, col conto deposito non succede, perché il conto deposito congela il prestito. Di fatto è un prestito che noi facciamo una banca e il prestito è valorizzato sempre al valore nominale. Il secondo vantaggio, naturalmente, è la flessibilità. La flessibilità, perché se avete il conto deposito nella forma libera potete versare, prelevare, quando volete voi. Se non vi servono i soldi potete anche pensare di fare un conto deposito vincolato. Per cui siete voi che scegliete, in base alle vostre esigenze, che tipo di operazione finanziaria può avere in essere. E avete tutto sotto un solo tetto, nel senso che con lo stesso conto deposito potete fare appunto il vincolo, quello libero e così via. Il terzo vantaggio riguarda il fatto che il conto deposito ha una sorta di rendimento lineare. In natura la linearità non esiste, però a noi uomini piace molto, perché la linearità ci dà tranquillità. Cosa significa rendimento lineare? Significa che il conto deposito paga un interesse e questo interesse matura nel periodo annuale o infranuale, secondo le logiche della capitalizzazione semplice. Per cui ogni giorno matura un pezzettino di interesse. Voi vi alzate, vi lavate i denti, fate la doccia, andate a lavorare e sapete che avete un centesimo in più sul conto deposito. O un euro, quello che volete voi. Voi capite che queste caratteristiche che ci sono sempre state, un anno fa, due anni fa, erano trascurate. Oggi sono oro dal punto di vista dell'investitore, che nella sua emotività e a volte poca razionalità, tende a dare un peso eccessivo ai vantaggi rispetto agli svantaggi e quindi andare a fare delle scelte che oggi potrebbero non essere ottimali. Quali sono allora gli svantaggi dei conti deposito? Il primo svantaggio è l'enorme burocratizzazione delle procedure, perché c'è tutto un problema di antiriciclaggio, di riconoscimento del cliente e così via. Per cui se comprare un ETF, un BTP, un CCT, quello che volete voi, è questione di un click, aprire il conto deposito è questione di qualche settimana, di un po' di moduli da compilare e così via. Per cui non è immediato l'apertura di un conto e questo si collega al secondo svantaggio che è il cosiddetto nomadismo finanziario, un nome che ho coniato io per indicare il fatto che le banche che offrono conto deposito sovente lo fanno in perdita, perché cercano di attirare masse nuove per poi convogliarle sul gestito, penso Mediolanum, penso Banca Sella o qualche anno fa. Questo cosa significa? Che voi aprite un conto deposito ed è un po' come l'offerta di Pincopallo Energia, avete un bonus per un anno, un tasso vantaggioso, poi il tasso viene adeguato e voi dovete, dopo un certo periodo, magari anche breve, andare a cercare l'offerta successiva. E questo naturalmente è un problema perché vi fa perdere un sacco di tempo, senza contare che poi avete magari diversi conti deposito per tutelarvi dai bail-in, ma ci arriveremo, e quindi diventa anche poi poco pratica la gestione. Ma il terzo svantaggio è il fatto che voi se scegliete la forma vincolata bloccate i soldi per un periodo molto lungo. Ora non fatevi trarre in inganno dal fatto che, come vi ho detto, il conto deposito valorizza il capitale in termini nominali, perché giustamente uno può dire, ma se io faccio il BTP a tre anni, magari mi trovo a perdere il 10%, perché i tassi sono saliti, se io sottoscrivo un conto deposito vincolato a tre anni, beh io per tre anni prendo gli interessi che se ne frega. Diciamo che il conto deposito è più subdolo, vi pela senza che ve ne accorgiate, nel senso che perché quel BTP vale meno? Beh la ragione è molto semplice, il BTP vale meno perché se i tassi sono saliti, oggi io potrei comprare un titolo nuovo che rende di più. Stesso discorso nel conto deposito, è solo che il conto deposito non lo vedo, ma alla fine io avrò un costo opportunità derivante del fatto che ho perso degli interessi che avrei potuto incassare nel frattempo, perché quando io ho vincolato i soldi ho preso il 2%, adesso per ipotesi i tassi sono al 5%. Questi sono dei punti, secondo me, a sfavore dello strumento. E poi parliamo di rischi, il rischio principale, lo sappiamo, è il rischio di bail-in. Bail-in è un termine inglese che denota il fatto che gli investitori che hanno impiegato i propri soldi in una banca come azienda commerciale, devono in qualche modo compartecipare alla gestione della stessa, subendo delle perdite se le cose vanno male, come capita per qualsiasi altra realtà. Voi diventate soci di Stellantis, se Stellantis non vende automobili, naturalmente ne avete un danno economico. Nel caso delle banche, siccome si distingue tra risparmio consapevole e inconsapevole, in buona sostanza, per farvela breve, il rischio è se sul conto deposito superate più di 100.000 euro, versate più di 100.000 euro. Perché? Perché al di sotto di questa cifra opera il Fondo Interbancario di tutela dei depositi, che è un consorzio collettivo che garantisce appunto questa cifra, 100.000 euro per depositante e per banca, in modo tale che uno eviti di perdere. Il tema è che se io ho una cifra modesta, posso aprire un unico conto deposito e poi fare il nomade per inseguire le offerte. Ma se io ho ad esempio 3, 4, 500.000 euro e li voglio investire in conto deposito, dovrò aprirne 3, 4, 5, il che diventa naturalmente abbastanza farraginoso. Un altro aspetto negativo del conto deposito è il mancato rendimento, perché nel lungo andare i conti deposito sistematicamente rendono meno del tasso di inflazione. Ora, è vero che uno potrebbe dirmi, sì bravo, tu dici delle belle cose, però se io avessi investito nel conto deposito un anno fa, quantomeno avrei ritenuto il capitale, invece ho investito in un portafoglio e perdo il 20%. Verissimo, ma se noi guardiamo di qua 10 anni, il conto deposito crescerà pochissimo, il portafoglio recupererà e renderà di più. Ma allora, questi conti deposito sono da fare o no? Beh, guardate, secondo me no. O meglio, distinguiamo tra risparmio e investimento. Il risparmio è quella cifra di denaro che voi volete tenere pronta, che non potete permettervi di perdere e che vi serve per gli imprevisti. Vi si rompe un dente, si spacca la macchina, volete comprare la casa in montagna dei vostri sogni, vi serve della liquidità. Quello è risparmio. Risparmio è una somma che non deve fluttuare. Allora lì ha senso, se parliamo di risparmio, pensare ai conti deposito, perché il principale motivo per cui noi abbiamo quel denaro è non perdere, è conservarlo. Ma se io penso all'investimento, il conto deposito ha molto meno senso, per i motivi che vi ho detto. Perché voi immaginate un cliente per esempio di un servizio di consulenza, come quelli che offriamo noi sui segreti bancari, apre il conto deposito, poi il cliente giustamente fa anche altre cose, non è che può dedicare tutto il giorno a quello, e ci sono i tempi tecnici. Ora, quando il conto deposito è aperto, magari lui ha fatto il vincolo, tac, converrebbe fare qualcos'altro. E allora che cosa fai? Vai a smontare il vincolo una settimana dopo che l'hai fatto? Ammesso di poterlo fare? Beh, non credo che sia la scelta migliore. La liquidità destinata all'investimento può stare sul conto corrente, perché è un di cui, ed è una quota piccola sul totale se le cose sono fatte bene, non è tenendo un 10-15% di liquidità sul conto corrente a tasso zero anziché al 3% l'anno che mi cambia la vita, anche perché magari un anno quei soldi lì non staranno. Ma siccome i rendimenti finanziari non sono lineari, allora io magari prendo quei soldi, li metto sul mercato azionario nell'ambito di una strategia, quando mi sembra che le cose vadano bene e in due mesi o anche meno recupero quello che sostanzialmente mi avrebbe dato il conto deposito in un anno. Tenete presente che in tempi recenti la borsa americana ha fatto il più 4% in una settimana, il conto deposito quello fa in un anno, giusto per darvi un po' un ordine di grandezza. Questo è tutto, come sempre io vi invito nei commenti a scrivere se voi utilizzate i conti deposito, quali conti deposito utilizzate, così mi aiutate anche a capire, magari puoi scrivere un articolo su segretibancari.com in cui magari intitoliamo i migliori conti deposito e così via. Io vi ringrazio per questa opera di co-creazione visto che sui social si parla di creator, vi invito appunto a visitare il sito segretibancari.com dove trovate tutta una serie di informazioni e servizi per investire e come ogni settimana io vi auguro buon weekend, buon investimento e ci vediamo venerdì. Grazie per i like e per le condivisioni.